Musica Martedì 4 luglio 2023, buongiorno, ben ritrovati dalla redazione di Teleregione in apertura della nostra rassegna stampa. Abbiamo un servizio tangente in cambio di droga e appalti al comune di Pescara infuocato Consiglio Comunale, aperto ai cittadini e ai comitati. Per noi c'era Valentina Cirlante. Pescara merita rispetto, queste le tre parole che la nutrita platea della sala consigliare della città avruzzese, composta da centinaia di persone, attivisti, liberi cittadini, ha pronunciato durante il Consiglio Comunale richiesto proprio da comitati e associazioni per protestare contro la gestione dei lavori pubblici del comune, per quella che viene ritenuta una scorretta manutenzione stradale, in particolare di Viale Marconi, e per chiedere al sindaco delucidazioni dopo il caos generato dall'inchiesta con cui la GDF ha arrestato il dirigente dei lavori pubblici trisi per un presunto giro di tangenti legate ad appalti e droga. Applausi, cori da stadio per chiedere al sindaco un passo indietro, ma la serata era iniziata all'esterno del palazzo, con un sit-in pacifico monitorato dalle forze dell'ordine, Digos, Baschi Verdi, delle Fiamme Gialle e Carabinieri. Questo è un sindaco che ha fallito sotto tutti gli aspetti, una città sporca, insicura, piena di buche, problemi di decoro urbano, una città maleodonante, un sindaco che ha fatto malissimo sotto l'aspetto politico dell'amministrazione. Poi tutto quello che è successo in comune sentiamo un sindaco che dice non lo sono, me ne ero accorto, benissimo, se non ti accorgi cosa fanno i tuoi sottoposti, i tuoi gregari, a maggior ragione non sai amministrare una città, quindi devi andare a casa. All'interno applausi per l'opposizione ed erano presenti anche tre parlamentari, Guerino Testa e Nazario Pagano per il centrodestra, Luciano D'Alfonso per il PD. Ovazione al suo arrivo, molti lo ritengono vicino a una candidatura l'anno prossimo. Onorevole D'Alfonso, lei sta esibendo, l'ho anche ribadito, Camera dei Deputati, il suo dossier? E' un dossier che vuole aiutare il superamento di questa grande difficoltà nella quale si è trovata la città di Pescara e il suo comune, la sua amministrazione. E' andata in onda una grande falla dal punto di vista dell'organizzazione, va ricostruita l'organizzazione della macchina comunale decisionale di Pescara. Il sindaco cosa dovrebbe fare? Dimettersi, è quello che gli chiediamo da due settimane, ma in realtà è quello che più volte gli abbiamo chiesto, non tanto le dimissioni ma di vedere, di vedere quello che stava succedendo nella città, di vedere il disastro in Viale Marconi. Protestiamo perché è da tanto che noi diciamo che c'è qualcosa che non va in questa città, perché è da tanto che noi chiediamo la partecipazione e questa partecipazione ci è sempre stata negata. E respinge al mittente le richieste di dimissioni, masci, il quale ha ribadito la bontà dei progetti attuati e la costante battaglia contro l'illegalità. Ci sono state molte strumentalizzazioni politiche, anche vergognose direi, perché un dato è certo, non c'è nessun amministratore di questa amministrazione coinvolto in un atto men che perfetto e legittimo. E torniamo ad occuparci delle elezioni regionali del Molise. L'avvocato Fabio Cofelice è un nuovo volto del Consiglio regionale del Molise, eletto il 25 e il 26 di giugno. Prioritario rinforzare organici ospedali, ha detto ai nostri microfoni. Il servizio è di Stefania Potente. Quello dell'avvocato Fabio Cofelice, 57 anni e direttore dell'Ufficio Affari Legali e del Dipartimento di Staff dell'Asrem, è uno dei volti del nuovo Consiglio regionale. Candidato nella lista del presidente Francesco Roberti, noi moderati, Cofelice ha ottenuto 2697 preferenze. Un exploit che lui, nel ringraziare la famiglia, i collaboratori e gli elettori di tutto il Molise che lo hanno sostenuto, spiega così. È una sorpresa, probabilmente per noi che ci abbiamo lavorato molto lo è meno, ma è il risultato di un impegno di molti mesi di lavoro. Per un esperto di sanità come lui, rinforzare gli organici negli ospedali e la sanità più in generale saranno obiettivi fondamentali nell'impegno in Consiglio regionale. Il Consiglio regionale deve riappropriarsi della funzione sanitaria e soprattutto vanno fatti degli interventi molto molto incisivi sul personale perché nel corso degli anni il personale è andato via e per via del piano di rientro non è stato possibile reintegrarlo. Quindi dobbiamo agire subito sulla leva del personale, personale soprattutto medico ma anche paramedico, insomma le figure occorrendi a far ripartire immediatamente il settore pubblico. In attesa della proclamazione degli eletti che potrebbe sancire anche l'ingresso del secondo in lista Roberto Di Pardo, Cofelice spiega i valori che contraddistingueranno il suo impegno a Palazzo Daimmo. Speriamo di dare una ventata di novità portando al contempo oltre ad un ottimo risultato elettorale anche delle competenze che altrimenti non potrebbero essere valorizzate. E per la nostra rassina stampa, come sempre partendo dal regionale molisano Primo Piano Molise nell'apertura troviamo la politica, il Movimento 5 Stelle implode, Conte Federico in silenzio il pessimo risultato delle elezioni regionali alimenta il malcontento interno dopo l'adiu del gruppo storico di Termoli anche dal capologo Trapela insoddisfazione, fibrillazione a Palazzo San Giorgio, probabili ulteriori defalianze e Greco tace dal 26 di giugno. Ancora la politica nel centro pagina. Attesa la proclamazione, Iacovino annuncia ricorsi Termoli, Chimisso vuote il sacco Schlein porterà il Partito Democratico all'estinzione. Ancora le altre notizie. Femminicidio, l'ancellotta entra nella commissione parlamentare d'inchiesta nel taglio medio, Venafro, inquinamento alle mamme per la salute e l'ambiente e basta impianti impattanti nella piana. Vibac firmata all'intesa per 116 lavoratori a riparo almeno per un anno. Ancora elezioni, sito della regione preso d'assalto, oltre 90.000 utenti accessi da tutto il mondo. Venafro guida senza patente, i carabinieri fornisce le generalità del fratello, viene arrestato. Nel fondo pagina invece ferito agli alti posteriori, Toro recuperato con l'elicottero, il veivolo dei Vigili del Fuoco decollato da Pescara. Nel taglio laterale invece il punto a firma di Michele D'Alessandro. Adesso rispettate gli impegni assunti. Il taglio alto è dedicato allo sport. Lupi Gonzales è ufficiale vicino a un accordo con il pertiere del Benevento, Esposito classe 2005. Isernia, Santo Nastaso non è più il direttore sportivo, anche De Bellis è ai saluti. Volley, partito il torneo nazionale riservato agli Under-14, nuova palla e volo che esce sconfitta. Dal regionale molisiano Primo Piano Molise ci spostiamo adesso sui quotidiani regionali abruzzesi partendo con la prima pagina del centro. Nel centro pagina Casotrisi, Reis dei Conti in Consiglio, Pescara, urla e contestazioni contro Masci, seduta sospesa ed arrivano i vigili. Nel taglio laterale l'accoglienza in Abruzzo, Porto di Ortona, oggi lo sbarco di 197 migranti salvati in mare. Caos in via Verrotti, lavori e traffico a Montesilvano, lira dei cittadini. Ancora nel taglio laterale dopo la premiazione, premi Flaiano, Carla Tiboni, il futuro riflettiamo. Nel taglio medio, addio Manuel, studente di 17 anni, Pescara, l'ulto al galirei, ragazzo, era malato da tempo, lo strazio dei professori e dei compagni. Nel fondo pagina, in analisi dei dati Istat, l'Abruzzo perde residenti, Chieti, Teramo e Pescara si spopolano, Montesilvano invece caresce. Pescara, un 45enne, è trovato morto nel bagno dell'ospedale. Poi c'è lo sport con il calcio, mercato, Pescara assalto a San Nipoli, idea invece Masala. Nel taglio alto invece traffico, il calendario dei giorni di luglio con il bollino rosso, le date per non partire. E poi ancora spiagge e concessioni, stop al max aumento del 25% dei canoni. Ancora i quotidiani regionali abruzzesi, questa volta con la prima pagina ad Abruzzo del Messaggero. Nel taglio alto appalti e coca, la difesa di Masci, Pescara, Consiglio Comunale rovente sullo scandalo. Non governo per i comitati, dice il sindaco. Dopo l'arresto di Trisi, contestati tutti i progetti di lavori pubblici, D'Alfonso Asfalti ha scomparsa. Pescara, il bunker della droga, le ruspe in azione, al ferro di cavallo. Ancora nel taglio medio, Bidella morta altri sei mesi per capire se fu omicidio. Lanciano, indagini prorogate, indagato il marito che trovò il corpo. Chieti, coppia tormentata per mesi, indagato lo stalker. Pescara perde il reddito, ma risulta proprietaria di casa. Poi ancora nel centro pagina, l'Aquila, gli intervengono i carabinieri. Bufera sui climber dei monumenti. Nel fondo pagina, l'emigrato abruzzese che ventò il casco. La storia riscoperta di Luciano Di Lello, calzolaio di Villa Santa Maria. Nel taglio laterale, invece, Marco Tuglio, il ricordo di un grande industriale. Nel taglio alto, giorno e notte, il compleanno del bikini, 77 anni portati alla grande. Poi c'è lo sport con Little Basket, Fontecchio e Pippo Ricci, profumo di mondiali. Poi c'è il Pescara con la Serie C, dopo i quattro colpi, punta su Savona e Pierozzi. Dai quotidiani regionali, molisani ed abruzzesi, ci spostiamo adesso sulle pagine nazionali, come sempre partendo con la lettura della prima pagina del Corriere della Sera. Nel taglio alto, sfida sugli alleanze europee, centrodestra, Tagliani, mai con i tedeschi di AFD e con le penne. Nella replica di Salvini, niente veti sui nostri alleati. Lì, imprenditori lombardi a Meloni, noi locomotiva del continente, tassi critiche della BCE. Nel centropagina, Ucraina, la guerra di vittoria. La scrittrice che lottava per la verità. Ancora nel taglio laterale, il delitto fiaccolata a Prima Valle, Michel, le ultime ore e le mosse del killer. Dal Corriere della Sera, uno sguardo alla prima pagina della Repubblica. Nel taglio alto c'è la politica, le spine della coalizione destra, separati in Unione Europea, scontro Tagliani-Salvini, sulle alleanze per conquistare la futura guida dell'Unione Europea, il coordinatore di Forza Italia, Michael Le Pen, e il leader della Lega non accetto veti. Gelo della Premier, che guarda i liberali, il PD, maggioranza di carta pesta. Salario minimo, coro di sì, il freddo di Asso Lombarda con il governo. Nel centropagina, la ricostruzione posta all'uvione, aspetta i fondi annunciati da Roma, Figlioni Romagna, ma senza portafoglio. Nel taglio laterale, Mappamondi, il ministro per noi inglesi, la pace è una sola, la resa di Putin dalla Repubblica. Uno sguardo alla prima pagina del messaggero. Nel centropagina, crescita, il centro accelera. Il Premier Meloni all'industria dell'Italia ha un miracolo economico. Completeremo il PNRR, l'Istat conferma lo sprint di Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Il PIL al più 4,1% che traina il bel paese. Nel taglio meglio, password e carte, boom online, più 20% dei furti di identità. In Italia ha già 34 mila casi, i dati utilizzati per acquisto di auto o elettrodomestici. Nel taglio alto la politica, Tajani frena sulle alleanze dell'Unione Europea. La Lega, niente veti, leader di Forza Italia, nessun patto con le PEN e AFD. E poi ancora, Maxi Coletta per la gente che ha ucciso Francia. Frenano le proteste per Nael, le ronde degli ultra contro i rivoltosi. Dal messaggero, uno sguardo alla prima pagina del tempo. Nel taglio alto, governo a lavoro, locomotive Italia. Meloni rimarca i successi. Nessuno in tutta l'Unione Europea cresce come quanto noi. Il Premier sull'economia è la più affidabile dell'intera Eurozona. Presto al via la produzione di semiconduttori per l'indipendenza tecnologica. Nel centro pagina, San Giuliano stacca il primo biglietto del Pantheon a pagamento. Da ieri visitare il monumento costa 5 euro. Poi ancora, nel taglio medio, Schlein porta il PD in vacanza. A vertici dem a Ventotene per inaugurare un circolo. De Luca, Elli è il nulla. Mobilità sostenibile, ancora colonnine in autostrada. Un flop, il bando del PNRR. Nel taglio laterale, emergenza sbarchi. Trattativa a oltranza sui migranti con Tunisi. Centro-destra diviso sulle europee. Tagliani dice no alle pene. Salvini non accetto. Veti dal tempo. Uno sguardo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Nel centro pagina, uniti da Verdini, i due Matteo vogliono salvare Sant'Anché. Open dove Sibiglia. Domani l'informativa della Ministra in Senato senza voto. Nel taglio alto, i ricchi contro i poveri. Salario minimo, Meloni padronale, opposizioni unite. Poi ancora, cassa insaziabile, 14 nomine sue. Altre otto della PIA, Brunetta ingrassa il CINEL, più 22 poltrone nello staff dal Fatto Quotidiano. Uno sguardo alla prima pagina del manifesto. Fardelli d'Italia, il titolo nel centro pagina. Polonia e Ungheria fanno bene a difendere i loro interessi, dice Meloni, anche se vanno contro quello italiano. I nazionalismi UE in tilt. A Roma la maggioranza si spacca alla rincorsa della destra. europea. Nel taglio alto, Raideri sui Genin, nuove uccisi. Israele invade e rioccupa la città palestinese. Mai un'operazione simile da oltre 20 anni. Nel fondo pagina, opposizione e sindacati a confronto. Il salario minimo non basta, ma è un inizio. Prove timide di campo largo contro la Meloni. Russia, ingombrante assenza di Prigodzin in esilio. Dal messaggero, uno sguardo alla prima pagina della verità. Nel taglio alto, l'organismo parlamentare d'indagine. Opacità giustificata. La verità sui vaccini fa paura. L'Unione Europea tiene ancora nascosta. Pesa il timore di dare argomenti alla destra durante la campagna elettorale per le europee. In Italia, oggi, PD e 5 Stelle tentano di boicottare la commissione d'inchiesta con emendamenti che mettano a riparo i governi. Nel taglio medio, francesi in massa al fianco del poliziotto. La sinistra vuole stoppare la colletta. La raccolta di fondi a favore della gente che ha sparato oltre un milione di euro. Spiega tutto sul clima che arregna oltre Alpe. Dà la verità uno sguardo al quotidiano economico del sole 24 ore. Nel taglio alto, in Svizzera, l'inflazione rallenta ancora più 1,7% e minimi da oltre due anni. Asilinido, a rischio, fondi PNRR per 100.000 posti. Nel centro pagina M4, la metro che avvicina Milano all'Europa. Le grandi opere in avvio, poi Bonomi, l'Industria, 5.0 e Cuneo, Meloni, Miracolo, Imprese. Prima di chiudere uno sguardo, come sempre, al quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport. Le questioni del mercato, del calcio mercato, sulla prima pagina. Vertice frattesi, scatto Milan. Oggi c'è l'incontro tra la di Furlani e Carnevali del Sassuolo. I rossoneri, però, non vogliono fare follie. Nel taglio alto, l'Inter va su Samarzic all'incasso con Brozovic e Onana all'assalto del giovane dell'Udinese. Nel taglio laterale, Napoli, spunta Scalvini. La Dea, però, vuole 50 milioni di euro. Roma, pinto al sedi Scammacca e Christensen, subito il blitz a Londra. Il presidente federale gravina dalla linea arbitri tolleranza zero con le panchine bollenti. Nel taglio laterale, poi c'è anche la Juventus, il recupero del francese, eccolo Pogba, pronto solo a fine mese. Si giocherà tutti i giorni, idea serie A, dal venerdì a lunedì. Diritti TV, fumata nera, ma il traguardo è vicino. Con le coppe, mai una sosta. Prima di chiudere diamo uno sguardo anche al nostro palinzesto. Alle ore 11 fuoco incrociato, alle 12 viva la musica con Gigione, alle 13 slow tour, alle 14 la nostra informazione in diretta con il telegiornale, alle 14.45 un caffè insieme, alle 16 fuoco incrociato, alle 18 ancora slow tour, alle 19.30 la nostra informazione con il telegiornale, alle 21 slow tour, alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale. E non mi resta che salutarvi, io vi ringrazio per averci scelto, tutti voi un buon proseguimento di giornata.